Oggi oorno, ognuno un cazzo, ma perché? Perché non ha fangulo, adesso si, sottofono musicale, c'è anche il violino, c'è il prete, si ti diamo, scappa il prete, e poi fai un cazzo da me si scappa il prete, no scappa il prete, no scappa il prete, è perché voi qualche bestemmiu ce la dite, fai una benedizione, questo io benedicus vobis impotentissima, spuccatori meganorum, picchiatorum, ecco, è partito, è partito il cazzo scrai, eccolo, destro, sinistro, antipasto misto, eccolo, oggi proprio, stamattina sono carichi tutti, è gasato stamattina, l'ermatena ho infilato i guantoni, ho infilato, sei svegliato? Ti ha messo i spicci? Sta buono con questi calci, che me dè? Niente, che me dè? Niente, vai a caccia questi soldi, caccia questi soldi, strucchella, strucchella, No, no, c'è il prete dentro, c'è il prete, 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 e beh, dammi che cazzo mi frega, guardate che stile, guardate, non levo un cazzo, questo è il bubre fascio, guardate, che stile è Antonello Venditti, cravatta, molesta me, guardate, c'è solo questa, guardate, che carezzi, guardate che peluche, è un peluche, è un peluche, è un peluche, è un pezzacchiosco, lui ti difende sempre però, è un pezzacchiosco, lui mi difende? Ah, e vorrei che con lui vincere le cazzo, dobbiamo fare un peluche, non c'è stato anche tu, fai il peluche, fai il peluche, fai, che ti caccia parlavi, fai il peluche, spiarti un peluche, fatefai peluche, Filipe fai in peluche, non è mi dla chi mi ha detto, oh